Oltre al cancello dell'ex Tribunale di Vittoria che voi vedete alle mie spalle c'è l'aria oggetto di attenzione da parte di alcuni residenti di via Rattazzi. Lamentano la presenza di un'area totalmente abbandonata, di alberi che non permettono alle case che vi si affacciano di poter usufruire della luce solare. Quindi gente costretta ad accendere la luce dalla mattina alla sera, ma non solo, la presenza di ratti nelle case e di tanti altri insetti e animali che possono esistere e vivere in una zona in totale degrado e abbandono. Abbiamo sentito alcuni di questi residenti chiedono un intervento immediato, una bonifica dell'aria interessata. Qual è il problema signora? Il problema è che qua nel piazzale di San Giuseppe siamo in uno schifo totale perché ci sono alberi che ci stanno entrando dentro, ci sono topi, ci sono rumache, non ti dico le zanzare che ci sono perché non puliscono come dovrebbero. Segnalazioni ne ho fatte tantissime, tra le quali l'ultima l'ho fatta questa settimana, non mi ricordo lunedì o martedì l'ho fatta all'amio, ex amio. Mi ha risposto una signora che mi ha detto, va bene prendo la segnalazione, signora non si preoccupi, ancora non ho visto nessuno. Non è la prima volta che voi fate queste segnalazioni, lei ha un problema perché gli alberi a quanto pare infatti non permettono neanche alle luci di poter entrare. E la risposta dell'amministrazione comunale è giunta immediata. L'assessore all'ecologia, Filippo Cavallo, ha assicurato che entro oggi ci sarà un sopralluogo da parte degli addetti ai lavori e che nel corso della settimana avverranno i primi interventi. E che deve essere fatta la polizia, questo è fuori dubbio, da un punto di vista di intervento, vediamo la settimana prossima, specialmente nei primi giorni, vediamo di poter far intervenire. Ma come in quella zona ce ne sono tante altre, sono state quasi tutte calentabilizzate e quindi diciamo mano a mano cercheremo di pulire tutto il territorio e sistemarlo. Dobbiamo dare tempo alla SAP perché si possa organizzare al meglio, perché gli interventi possono essere fatti. Però ripeto, bisogna avere un attimino anche di pazienza da parte dei nostri concittadini, perché il lavoro è intenzione di questa amministrazione di portarlo a compimento nel migliore dei modi.